Quando è arrivata la guerra avevo circa cinque anni e mezzo. Un anno prima gli uomini sono partiti per la guerra, tanto è vero che mio padre era prigioniero e mia madre aspettava anche un altro bambino. Però quando mio padre è partito prigioniero, che mia mamma piangeva sempre, ho cominciato ad avere un po' paura. Non sapevo che cosa succedeva e che cosa fosse la guerra. La notte arriva la prima cannonata e l'abbiamo avuto tanta paura. Siamo scappati da lì sempre di notte quando era calmo e siamo andati alla grotta della valle, le grotti della valle, che là erano tutte grotte una presso l'altra che avevano scavato prima della guerra. Cioè quando si sentiva che arrivava la guerra tutti gli uomini andavano a scavare queste grotti. Mi ricordo che mia nonna diceva io ho pagato perché non c'avevo l'uomo e ho pagato una parte per entrare in questa grotta e siamo andati lì. E lì ha cominciato veramente il finimondo delle cannonate, delle bombe aeree e lì c'è stato proprio il fuoco delle bombe. Non si poteva mangiare, non si poteva bere, non c'era acqua, non c'era niente. Grazie a tutti.